o da casa milan ciao a tutti ragazzi bentornati benvenuti nuovo video veloce 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 velocissimo qua direttamente da casa milan ragazzi io tutto quello che potevo fare l'ho fatto solo ieri sera che avrei dovuto farla live ma non ho potuto farla perché ho avuto dei problemi con il mio bambino comunque tutto bene ragazzi niente questo è semplicemente un video un video di scongiuri un video per stare insieme a voi ragazzi sono 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 timoroso sono spaventato sono agitato ma sempre consapevole che i nostri ragazzi oggi potrebbero veramente rendermi e renderci tutti felici e raga niente tutto qua il video di oggi è un video di scongiuri raga dite incrociate dite incrociate speriamo bene per questa sera io più di così più di venire qua come avevo promesso non potevo fare ragazzi un saluto a tutti forza milan e ci vediamo questa sera appena finita la partita ciao a tutti ragazzi ciao